Sì, però ora mi dico una cosa, mi dico andare a pagare la banca le 500 rubli per appostire. Dove sarà ancora la banca? Ah, per questo c'è il banca occidente coriato, qualche parte là poi, diciamo. Qua c'è quel ristorante, quello che diceva mia mamma, quel ristorante italiano. Qua c'è quel ristorante? 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 Qua c'è quel ristorante?